Hei 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 bentornati in un altro video Hei 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 oggi è venerdì quindi sempre video ragazzi comunque buonasera a tutti ben arrivati a un nuovissimo video io sono quello che sono mi chiamo quello che mi sono sempre chiamato no quello che mi sono sempre chiamato non avrebbe tanto senso io sono quello che sono io sono con lui che ha un canale youtube con lui che sta portando un nuovo video ok ragazzi parla troppo andiamo su spotify e aspettate ma la pubblicità questo video è preso male ok partiamo subito come dal titolo vegas jones 12 pm 12 al mezzogiorno però ci si è scritto 12-0 pm io non so se cosa ascoltiamo io ho già sentito un pezzo bello perché è vega jones eh attenzione ma io manderei anche avanti per questo intro scusate troppo avanti ho mandato mezzogiorno caldo come un ferro sporco mi dirigo al punto di raccolta per il grande buco mi tiene a sveglio un chat con poi e non le sualbico che sta al top sai che sono solo in compagno di notte d'ora in poi lo scherzo il giorno è ancora lungo trovo un modo per riempirlo testo lucido e prestante come il band score è mio sono un mito per le vie che di lo IG che di lo a 5 il pezzo che ascolto prima cosa che proprio mi viene in mente prima è unica cosa che mi vengo in mente io la prima cosa che guardo ad un pezzo è il beat se il beat proprio a me spacca il pezzo quello che cazzo sta dicendo mi può fare schifo sentite questo beat come bate proprio proprio è favoloso quindi se tu canti su un pezzo così e sai capire che è una bomba cioè io già se non ne hai ho appena finito il video di Tassupreme dei link nel mio canale e andate a vederlo però per dire è un altro pezzo questo ragazzi un altro pezzo d'oro questa eh come direbbe un vedeto fiogli attenzione non so se dice così ma però è proprio questo uguale come ogni video quando finisce ragazzi io ho sempre detto tu prova a dare un beat no io non ho mai detto visto che è la prima volta che faccio un reaction di un pezzo di Vega Jones io dico sempre una cosa no io non lo dico perché se non l'ho mai detto non lo dico perché se l'avessi già detto l'avrei detto comunque tu prova lo dico adesso così il prossimo pezzo di Vega Jones potrò dire io ho sempre detto perché ora non posso dirlo sempre perché non l'ho mai detto comunque tu prova a dare un beat a Vega Jones nonostante tutto il suo proprio flow su ogni beat ti sa ti sa ti sa ti sa meh ti sa proprio dare una hit io ho uno dei pezzi migliori di di Vega Jones è quello con il nitro tranquillo è una bomba poi c'è anche iPhone che mi piace buona non parliamo di questi pezzi visto che non avevo ancora il canale acceso e un giorno potrò parlare di questi pezzi ma ora non posso perché è nuovo quindi eh volevo dire una cosa come dico sempre iscriviti al mio canale ci vediamo un altro video e c'è quel meno di farlo perché per vedere cosa ti succede vai a vedere gli altri video se vuoi schippa vai fino alla fine fai quel cazzo che vuoi basta che guardi guarda che ti succede se non si iscrive al mio canale non solo minacce ma ti consiglio di iscrivervi al mio canale c'è un altro video ciao ragazzoli